Buongiorno amici investitori, buon inizio settimana e benvenuti in questa nuova puntata di Weekly Fuzzimib. Come di consueto ogni lunedì analizziamo il principale indice di borsa italiana per condividere le strategie operative valide per la settimana in corso. Durante la scorsa settimana le quotazioni dell'indice Fuzzimib hanno ripreso vigore riportandosi al di sopra del livello psicologico e tondo dei 25.000 punti. Il recente rialzo conferma così il quadro rialzista di breve termine in linea con il trend ascendente di più lungo periodo. Al momento i corsi sono indirizzati verso il successivo livello resistenziale a 25.500 punti lasciato in eredità dal massimo registrato prima del crollo di febbraio 2020. Vista la struttura tecnica e il balzo messo a segno durante la scorsa settimana strategie long potrebbero essere implementate in caso di ritracciamento verso i 24.900 punti con obiettivo collocato sul livello di interesse dei venditori menzionato precedentemente. Al momento i venditori tornerebbero in vantaggio in ottica di medio termine solo nel caso di un ritorno delle quotazioni al di sotto dei 23.640 punti. Supporto orizzontale lasciato in eredità dal massimo segnato il 15 febbraio scorso. Se ciò dovesse accadere strategie di stampo ribassista avrebbero obiettivo presso i 23.000 punti prossimo livello di concentrazione di domanda. Bene amici questo è il quadro tecnico del Fuzzimib da parte dell'ufficio studi di investire.biz. Vi ricordo che potete operare anche voi sull'indice di borsa italiana con i certificati il long e short di BNP Paribas. Per farlo è semplice basta visitare il sito investimenti.bnpparibas.it nella sezione certificate a leva, turbo certificate, potrete ricercare il vostro prodotto, in questo caso un turbo long, categorie indici, sottostante Fuzzimib. Ecco che vi compariranno tutti i prodotti dell'emittente francese che potrete utilizzare per la vostra operatività. Bene amici per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione e non mi rimane altro che darvi appuntamento a lunedì prossimo per la nuova analisi sul Fuzzimib. Buona settimana e buon trading a tutti! Grazie! 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 Grazie!